Onorevole Melilli, il DDL del Rio sulle nuove funzioni delle province che vengono in gran parte svuotate, ormai definitiva il suo via libera, non si voterà più il 25 maggio per i nuovi consigli provinciali, questo è il primo dato che possiamo dire? Sì, non si voterà più, ma questo era abbastanza chiaro già da tempo, ci sono più di 20 province commissariate e quindi il tema è adesso come inizia una nuova stagione dove nelle province diventano protagonisti sindaci. Lei è stato presidente di provincia, come cambia adesso la funzione di questi enti che sono destinati comunque all'abolizione? Cambia radicalmente nel senso che innanzitutto vengono tolte le sovrabbondanze, le cose che facevamo tutti, anche da presidente della provincia c'erano alcune funzioni che facevano le province, i comuni, le regioni, quindi c'è una semplificazione della missione che si concentra su alcune funzioni fondamentali, il governo è fatto da sindaci e da consiglieri comunali che presenteranno liste per essere eletti nel consiglio provinciale, non ci sono più indennità, non ci sono costi della politica e si concentreranno su alcune questioni che sono le strade, l'edilizia, forse le funzioni più tradizionali delle province. Ora si apre una stagione però molto interessante nel senso che molte funzioni delle province sono state ad esse assegnate dalle regioni e quindi si apre una stagione importantissima di normative nuove regionali che dovranno ridefinire le funzioni sul territorio. I servizi in qualche modo verranno divisi tra i comuni, ci saranno dei consorsi da comuni per quei servizi che venivano gestiti dalle province? Ci sono funzioni delle province che oggettivamente possono essere trasferite su scala regionale, nel senso che si sale perché la loro funzione è una funzione complessiva sul territorio regionale, altre funzioni che possono invece scendere, questo a me personalmente piace di più nel senso che la funzione si avvicina di più ai cittadini e questo sarà possibile man mano che i comuni cominceranno a realizzare davvero le unioni di comuni, fare gestioni associate di servizi in campo più largo, in un'area più larga che consentirà probabilmente di trasferire alle unioni alcune funzioni che non possono essere gestite dai singoli comuni. I detrattori di questa legge, di questo disegno di legge firmato dal Ministro del Rio dicono che in realtà state, che poi alla fine state moltiplicando le poltrone, vogliamo dire una parola definitiva su questo? C'è molta demagogia in questo, non si capisce, prima diminuiamo i costi e non va bene, moltipliciamo le poltrone, se le poltrone sono gratuite insomma non credo che siano così devastanti, ci sono sindaci che gestiranno l'amministrazione provinciale e la gestiranno pagati per la loro funzione di sindaci e credo che questo sia un segnale importante che la politica dà al Paese. Adesso si tratta invece di pensare soprattutto ai cittadini e alle imprese, cioè se ci mettiamo nell'ottica dei cittadini e delle imprese possiamo rileggere le funzioni secondo una logica che è la logica migliore per i cittadini e le imprese e quindi facciamo gestire le funzioni a chi meglio può rispondere ai bisogni dei cittadini e alle esigenze delle imprese.